Pronti per l'ultima parte della puntata odierna della regola della sostenibilità. Come buona prassi, quest'anno abbiamo introdotto questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che non sarebbe possibile se non fosse in collegamento con noi la dottoressa Elisabetta Del Soldato, coordinatrice del Comitato Scientifico di Simtour. Buongiorno Elisabetta, bentrovata! Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori, grazie. Ci dicevamo a microfoni spenti che questa è stata una puntata in cui abbiamo trattato temi importanti, ci fa piacere finire in bellezza alleggerendo un po' il carico sulle nostre spalle perché con te, come abbiamo iniziato a fare già da qualche puntata, andiamo a riscoprire non soltanto i territori ma anche quelle buone pratiche sostenibili, è proprio il caso di dire, che ci rimettono in connessione con l'ambiente ma anche con noi stessi perché, ecco, rallentare e utilizzare tutti quegli altri verbi con la R che ci guidano lungo il cammino della sostenibilità, rallentare, riusare, riparare, riciclare, ci aiutano senza dubbio a vivere meglio. Dunque, la regia ci sta già anticipando il tema di cui parleremo oggi, erbe spontanee e alta valdivara. A te il piacere di condurci in questa altra tappa del nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Grazie, grazie Toni. Allora, la settimana scorsa, come sapete, è stata anche la giornata mondiale contro lo spreco alimentare che è un problema che comunque anche a livello di turismo si ripercuote, no? Pensate anche semplicemente ai buffet delle sale e colazioni degli alberghi, quindi un po' ripensare anche quello veramente che ci mettiamo nei piatti. Allora ho pensato di riportarvi, vi avevo già accennato qualche puntata fa, all'alta valdivara che è un biodistretto del biologico, ma soprattutto è il biodistretto del biologico più grande d'Europa e spesso purtroppo queste informazioni non sono sempre disponibili e invece sono importantissime. Comunque, andiamo in valdivara perché non solo è importante per il biologico, ma soprattutto perché c'è una signora, la signora Lella Canepa La vediamo di spalle in questo momento Esatto, è proprio lei con il suo turbante in testa che appunto con un cestino se ne va a fare la raccolta degli erbi spontanei Geolocalizziamoci un attimo Elisabetta, dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo appunto in alta valdivara dietro praticamente le 5 terre, quindi è una zona con grandissime tradizioni perché è una zona che è sempre stata di grande passaggio fra la Repubblica Marinara di Genova e il Gran Ducato di Parma Quindi si passava proprio attraverso l'alta valdivara per fare questi scambi commerciali che ci sono sempre stati Una delle cose che caratterizza appunto sempre la valdivara è un raviolo Un raviolo che appunto viene fatto il composto, non è altro che un mix di erbe però proprio adeguatamente misurato questo mix di erbe e questo raviolo, questo prebuggion, quindi questo ripieno particolare per questi ravioli veniva proprio fatto e preparato dopo le festività perché aiutava praticamente a digerire dopo le grandi mangiate magari del Natale o della Pasqua Alle quali ci apprestiamo nuovamente, ormai non manca moltissimo Esatto, esatto, ci dobbiamo riguardare un po' di queste ricette tipiche E Lella che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che trasferirsi con i suoi figli già negli anni 70 nell'alta valdivara proprio perché voleva ricercare un senso di comunità, un senso di lentezza e piano piano, grazie anche agli insegnamenti della nonna si è proprio dedicata a questo tipo di attività che anche a livello di turismo è un'attività che noi ora stiamo cercando di portare avanti in alta valdivara, stiamo organizzando appunto anche delle giornate dove si va insieme a Lella a raccogliere questi erbi e poi vengono cucinati, quindi poi c'è anche un momento di convivialità dove condividiamo appunto queste torte, anche torte salate che è possibile fare con gli erbi quindi anche questo, parlando di spreco anziché riempirsi sempre i frigoriferi di cose che poi dopo vengono purtroppo buttate via per mille motivi imparare proprio a riconoscere quello che può essere intorno a noi di commessibile e rimpariamo soprattutto a ritirare fuori delle tradizioni quindi dei piatti tipici dei luoghi che poi possono anche questi diventare un racconto se ci vogliamo sviluppare in chiave turistica quindi ogni territorio, soprattutto in Italia siamo uno dei paesi con più biodiversità al mondo e la biodiversità secondo me poi passa proprio anche dal piatto dalle tradizioni che ogni piccolo paese in giro per l'Italia ha e quindi con un minimo di senso di orgoglio andiamo a ritirare fuori queste tradizioni riscopriamo la lentezza di uscire fuori con un cestino e guardare, con lentezza, guardare e riconoscere le varie erbe per poi portarle a casa condividerle durante un pasto con la nostra famiglia con i nostri amici Sì, anche perché le utilità di questo ragionamento sono molteplici intanto avremo possibilità di fare attività fisica in natura che senza dubbio fa bene poi aumenteremo la nostra consapevolezza rispetto al patrimonio di biodiversità dei nostri territori e tante volte, non solo in questo periodo dell'anno ormai le tisane sono molto sdoganate perché fanno bene ecco, immaginiamo di avere la possibilità di prepararci una tisana con erbe raccolte da noi stessi sui campi ovviamente attraverso opportuna conoscenza guidati laddove non siamo esperti perché poi succede tante volte proprio questo che quando cuciniamo le verdure magari per utilizzarle come antipasto piuttosto che per accompagnare un primo o come contorno per un secondo si va, cara Elisabetta, a buttare la parte quasi migliore di quell'erba che in realtà sta nell'acqua di cottura perché nell'acqua di cottura vengono rilasciati poi i sali minerali le vitamine, insomma, tutte quelle proprietà che possiamo non sprecare conservando quell'acqua di cottura ovviamente opportunamente filtrata per essere ribevuta d'inverno calda come una tisana ma d'estate anche fresca come un integratore se fosse particolarmente amara possiamo aggiungerci il buon classico cucchiaino di miele che oltre ad addolcire la bevanda gli conferisce ulteriori proprietà nutrizionali visto come sono stato bravo c'è stato bravissimo davvero poi ti racconterò quando vuoi andiamo a trovare la signora Lella in Valdivare a raccogliere le erbe spontanee molto volentieri poi ti racconterò perché sono così preparato intanto purtroppo il nostro tempo ecco quando si parla di cose belle poi il tempo sfuma per cui siamo già in chiusura ma spero di ritrovarti già la prossima settimana ci vediamo presto Tony grazie a voi grazie a tutti i telespettatori buon viaggio sostenibile in giro per l'Italia allora in compagnia della nostra dottoressa Elisabetta Del Soldato e buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV grazie a tutti i telespettatori